Davide Mazzanti, l'Italia alla vigilia dell'esordio all'europeo, le tue sensazioni? Buone, perché negli ultimi giorni ho visto delle cose belle da parte della squadra e abbiamo fatto un passo importante nel gioco e adesso dobbiamo continuare a crescere dentro il torneo perché anche le squadre che andremo a incontrare ci permettono poi sia di entrare progressivamente dentro il torneo sia di crescere dal punto di vista tecnico e tattico. Domani Georgia, poi Bielorussia e Croazia, come dicevi nelle interviste precedenti è un europeo a salire di difficoltà come livello? Sì, sicuramente il calendario delle partite ci ha messo di fronte a una scaletta di difficoltà sempre maggiore e quindi questo si permetterà di aumentare la nostra qualità del gioco e di entrare poi sempre più dentro il torneo per vedere quali sono le nostre reali possibilità in questo europeo. Come arriva l'Italia? È stato un periodo di preparazione non facilissimo ma hai detto che la domanda da farsi non è perché ci è successo ma che cosa possiamo fare adesso? Sì, credo che le ragazze stiano facendo un gran percorso anche da quando siamo arrivati qui in Azerbaijan ho visto delle cose molto molto buone e delle risposte diverse secondo me abbiamo fatto ancora uno step spero che le ragazze ne siano consapevoli perché credo che sia uno step importante per affrontare questo europeo. Il motto per l'europeo? Stupire! Stupire! Stupire!